Un'altra derivazione che nasce dal testo di Benjamin, cioè il concetto di nuda vita. Benjamin sostiene che tutta la struttura giuridico-politica moderna che si vuole come struttura di protezione della vita è invece una struttura che spoglia vita, la rende nuda, la spoglia di ogni qualità e la considera semplicemente qualche cosa di biologico. La nuda vita è il prodotto della sovranità decidente. La sovranità, cioè la violenza che pone il diritto, mentre pone il diritto, trasforma la vita in nuda vita. Bios in Zoe, secondo Agambe. Durante la fase del lockdown, si è detto, la sovranità aveva finalmente gettato la maschera e si manifestava nella sua forma più radicale, cioè nel suo produrre nuda vita, il che vuol dire produrre una vita priva di legami, una vita slegata, una vita dissoluta, cioè una società fatta di individui tutti alla mercè, come ciascuno, come singolo, del potere sovrano. La decisione è questa. La sovranità taglia le apparenze di legame che la società e gli individui in essa avevano creati e riporta gli individui alla condizione moderna originaria, cioè individui che chiedono e non possono essere altro che esseri zoologici dei quali si può disporre o allevandoli, mantenendoli in vita o consegnandoli alla morte in vario modo, consegnandoli al carnefice oppure lasciandoli morire. La società dissolta, slegata, proprio perché il contagio, ciò che mette gli uni a contatto con gli altri, in realtà è l'occasione perché la sovranità tolga i contatti e riporti la società al suo essere sostanzialmente un deserto costituito di atomi, di granelli, di sabbia. Questa è una posizione antiliberale, cioè secondo i liberali la società non è e non può essere questa, la società non è così infinitamente plastica davanti al potere sovrano. Perché prima del potere ci sono i limiti del potere, perché prima della sovranità ci sono i diritti, perché prima della forza dello Stato c'è la forza della società. Tutto ciò tradotto nella logica giuridica è costituzionalismo versus assolutismo. Qualcuno, nel caso specifico Giorgio Agamben, ha detto bene, abbiamo visto che è stato creato un caso d'eccezione che, come tutti i casi d'eccezione, esprime la verità della norma. Cioè la verità dell'ordinamento liberal democratico viene finalmente alla luce in questa circostanza estrema. Il potere che non è ordine ma è essenzialmente disordine. La pandemia e la globalizzazione, cioè qualche cosa che non conosce confini, è stata combattuta attraverso una protezione confinaria, un protezionismo spaziale attraverso il confinamento. Il processo di dissoluzione della complessità della società è stato posto in essere dal neoliberismo. È il neoliberismo che ha nel proprio DNA la individualizzazione della società.